Sangue di Gesù Chiamandoti alla conversione Prendi in mano il Vangelo Leggilo E mettilo in pratica E troverai in esso Pace Salvezza e guarigione Ave O Maria Nostra Signora dello Scoglio Per intercessione di Maria La Vergine Immacolata Affidate al Signore Nella benedizione Ogni vostro problema Ogni vostra necessità E ogni vostra particolare intenzione Gesù Gesù Si prenderà cura Dei vostri bisogni E risponderà Secondo la vostra fede Volga a voi Il suo sguardo E vi dia pace Il Signore Il Signore Vi benedica Il Signore vi benedica E vi dia pace E il Signore vi benedica Il Signore vi benedica Il Signore di Maria E il Signore vi benedica che passando vai, muovo di Galilea 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 che passando vai, Grazie a tutti.